Hai visto, papà? Hai visto? È stata fantastica! Sì. Sì, ho visto. Dannazione! Perché mi hai costretto a fare questo? Ti stai battendo per assistere alla morte di ciò che ti circonda? Pensaci, Mark. Tu sopravvivrai a ogni fragile e insignificante essere di questo pianeta. Vivrai per vedere questo mondo sbriciolarsi in polvere ed essere spazzato via! Ogni cosa e ogni persona che conosci sarà scomparsa! Che cosa ti resterà da qui a 500 anni? Tuo papà... Con me ci sarai tu. Oop! Oop!